A Teatro Acropolis faccio sia l'attore che l'organizzatore, non da solo, ma insieme a Veronica che è la responsabile delle relazioni esterne. Non è fatto per la scena e quindi non serve alla costruzione di uno spettacolo, ma è qualcosa di molto più profondo, proprio sulla persona, sull'individuo. Il nostro intento, diciamo, è, tra queste persone che condividono questo percorso, è cercare di studiare in che modo una relazione, un'azione, possa essere il più possibile, intanto, autentica e vera e spugliata il più possibile da codici attoriali della danza, quindi da codici estetici, diciamo, ed espressivi. Il futuro, per come stanno ora le cose, sicuramente io credo che ci siano tante cose ancora da scoprire in questo tipo di approccio.